Maria Luisa Neri, scrittrice, poetessa, musicista. La radempsicologia clinica e indirizzo applicativo presso l'Università della Sapienza di Roma si è perfezionata per gli aspetti dell'età evolutiva, sui disturbi della sessualità, della devianza, dell'apprendimento e dell'alimentazione. Iscrittasi all'albo ha avviato uno studio privato. Iniziando a scrivere in gioventù, attualmente la sua produzione è composta da ben 11 volumi di poesie e racconti brevi, una raccolta di arco e diverse fiabe musicali. Alcune sue composizioni sono state inserite in varie antologie. Maria Luisa Neri, appassionata di musica, si è anche diplomata al Conservatorio in due strumenti. Ama ogni forma d'arte e organizza eventi in campo culturale e artistico, in particolare in ambito musicale. dando spazio soprattutto ai talenti italiani. Socia fondatrice dell'Associazione Culturale da Ischia l'Arte di Ila, Maria Luisa Neri, è anche presidente dell'Associazione Arte del Suonare, tramite cui lei usa affermare che intende favorire ed organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, festival, conferenze, premi, salgi, concerti, musicale, e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica. Diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non attraverso la realizzazione di iniziative culturali di vario genere, con particolare attenzione al repertorio violinistico, dando vita a stagioni concertistiche di alto livello, a festival musicali, e un concorso musicale internazionale, giunto ormai all'ottava edizione. Oltre all'offerta concertistica, l'Associazione si propone come luogo di incontro di interessi musicali e culturali, assolvendo la funzione sociale di crescita umana e civile, ed è impegnata a realizzare la scoperta e la valorizzazione di giovani promesse in campo musicale sia a livello locale sia in campo nazionale. Grazie. Grazie.